Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib di giovedì 26 novembre. Negli scorsi giorni ho continuato a vedere e ricontrollare le analisi fatte perché stiamo sedimentando sostanzialmente su questo livello. Per capire le modalità eventuali di discesa, perché se ben vi ricordate già lunedì mi aspettavo che fino a martedì si salisse ma poi continuavamo a essere in eccesso, iniziavo ad aspettarmi discesa, poi come avete visto è stata negata dagli HFT e però rientra in tempi ciclici, mi sono rimesso a valutare ogni eventualità possibile per cui ho passato tutta la giornata di ieri sui grafici, buona parte della mattinata di oggi sui grafici per capire quale potrebbe essere poi la scuadratura più corretta, la centratura più corretta a livello di cicli. Siamo in mezzo a due centrature comunque improntate a rialzo e comunque che hanno come termine ultimo il limite temporale dato da questo mensile inverso. Qui siamo arrivati, oltre alle 31 barre, siamo ormai alla 32esima che potrebbe non appartenere più ma come sapete un mensile può allungare fino a una durata massima di 43 candele giornaliere. Per cui, dato che qui possiamo avere su indice un primo ciclo a 6 un secondo ciclo a 9, quindi un 6 più 9 invece che un 10 più 9 e qui può essere partito da questo minimo già con 1, 2, 3, 4 candele e quella di oggi 5, un altro t-1 che dà vita serenamente a un altro t più 1 perché basta un t meno 1 per dar vita a un t più 1 capite che questa è la centratura di base ma in realtà potremmo essere più avanti come tempo. Questo perché, come detto, quando arrivano volumi, quando arrivano HFT, quando c'è una tendenza estremamente forte diventa più difficile riuscire a leggere i cicli e quindi bisogna fare ancora più attenzione rispetto a che era al passato. In questo caso, comunque, come detto, il limite di durata di questa salita l'abbiamo in base, appunto, al nostro mensile inverso, al t più 2 inverso. Qui, peraltro, conviene ragionare sempre in termini di durate complessive dei cicli più lunghi. Siamo arrivati a 19, 20 barre, quindi anche in questo caso a meno che non ci sia stata una chiusura di primo t più 1 qui, eh, però perché anche questo va valutato e qui ci può stare il 19 di novembre di aver avuto una chiusura. Dunque, 19 di novembre, eccoci qua. Abbiamo avuto ben più di un t meno 3 ribassista. Vedete che cambierebbe la centratura, anche in questo caso, da qui non sarebbe partito messo un t, avremmo chiuso un t più 1 qua, e qui sarebbe partendo un nuovo t più 1 che avrebbe qua il suo bario cento di partenza, anzi, il punto di partenza t, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto t. Capite che serenamente capiremmo anche perché anche al decimo t meno 3, anzi, fino almeno al nonno t meno 3 abbiamo, e continuiamo ad avere, una bella forza a rialzo. Peraltro, per aiutarci, come al solito, a capire come muoverci, ha sempre senso ragionare oltre che l'indice e l'inverso. Per cui capite che in situazioni come queste, se si vuole a tutti i costi operare, dato che purtroppo diventa più complesso leggere i singoli cicli, bisogna ragionare in termini sia di inverso che di indice, di cicli più ampi rispetto a un semplice timono 3, ed eventualmente, proprio se si vuole, privilegiare la tendenza di fondo, ovvero il trend di base, il long. Fino a che non ci sarà, sempre come detto ieri, una violazione di swing inverso, ovvero di un punto di controllo che è un minimo, guardatelo qua, questo era il minimo che ci interessava per valutare operazioni short, se non viene toccato, come vi sto facendo vedere, si riparte, e anche se si fanno fin te rialzo, fin te ribasso, si torna poi a risalire e quindi in tendenza. Questo serve anche per capire quanto è valido uno swing, la valenza di uno swing. Non violato, oppure eventualmente violato, ma poi volumi che ci riportano su, prezzi che tornano a salire, privilegiate il trend principale, ovvero long. So che stiamo salendo da tanto tempo, ma c'è poco da fare. Dopo un eventuale storno per la chiusura, in questo caso di un T più 3, che potrebbe durare anche soltanto un settimanale, che poteva partire in realtà da martedì, poco da fare, si continuerà a salire. C'erano trader che prevedevano forti discese, capite che procedere step by step, passo a passo, invece conviene, perché in violazione di determinati swing, si sa che difficilmente si tornerà a scendere per più di un tot di tempo ciclico. Per quanto riguarda il Fuzzi Nib, anche in questo caso vi faccio notare che siamo arrivati a 34 barre di inverso, quindi si può arrivare anche a 44, ma se da qui avremo un T-5 inverso, lateral rialzista, e poi andremo in violazione di questo massimo, a 22.387 potremmo valutare di nuovo operazioni long, eventualmente se il tempo ciclico sarà favorevole, anche in questo caso si passa dalla teoria, alla pratica e alla pratica all'operatività, la parte operativa della ciclica evoluta, ecco, anche in questo caso, è vero che siamo a sesto T-3 inverso, ma di nuovo, riguardando le squadrature, potremmo avere un 10 più 10 sull'indice, che di nuovo è abbastanza raro, soprattutto con questa intensità, abbastanza nel senso di, parlo di decenni, ok? Una cosa del genere capita molto raramente, e vedete che qui siamo a 10 più 10, piuttosto che anche in questo caso, si può fare una squadratura intermedia, che purtroppo ci sta, e quindi da adito a dubbi, di un 6 più 8, con partenza di nuovo T più 1, già confermata su questo minimo qua, del 19 novembre sempre, vedete che alcune cose ritornano, qui faccio già che magari segniamolo, così mi metto un bel punto di domanda, al 19 novembre. Per cui, nel dubbio, privilegiate il trend, mettendo gli stop molto corti, eventualmente sotto i minimi di competenza, anche questo lo si può fare con la ciclica evoluta, perché, visto il minimo che ci serve per eventualmente che le cose cambino, quindi lo swing inverso che cambia il trend, sapendo dove è, sappiamo dove mettere lo stop. Anche in questo caso, 34 barre, e poi, se questo massimo verrà violato, si continuano a salire. Se il tempo ciclico, appunto, sarà quello corretto, e quindi, se no, saremo a 23 candele o oltre. Vi do un indizio. Ultima cosa, di nuovo, quando la situazione è interpretabile in vari modi differenti, tornate a lavorare sempre sullo stand-up in post-500. In questo caso, la squadratura diventa più semplice, perché abbiamo, come dicevamo, un 6, quindi non un 10, come dalle altre due parti, un 6 più 7, quindi un primo t più 1, b settimanale, che si è chiuso su questo minimo, successivamente, abbiamo avuto, eventualmente, già con riprova, un secondo t più 1, barra, terzo settimanale, minimo, che è già arrivato a 5 barre. Questo, se riportato su DAX, ci dice che probabilmente questa non è la centratura corretta, ma è l'altra alternativa che vi davo, 6 più 6 più 9, ok? E che da qui può essere partito, eventualmente, già confermato, oltretutto, il terzo t, piuttosto che il secondo t più 1. Anche in questo caso, fino a che non avremo altre informazioni rilevanti, e non si scenderà, vedete che le finte, ci sono su entrambi, su entrambi gli indicatori, oltretutto, e sono finte che, per chi sta provando ad andare short, significano sangue perso, perdonate il termine un po' forte, e significano perdite, che si continuano ad accumulare, contro, invece, eventualmente, una pausa dal trading, che ci siamo presi, per vedere se ci saranno violazioni di swing inversi, e quindi possibilità di andare short, piuttosto che, come detto, in questa analisi, favorire operazioni pro trend, ovvero long. queste sono informazioni che possono essere utili per la vostra giornata? Perché se lo sono, come al solito vi chiedo una bella pacca sulla spalla, un like sotto l'analisi stessa, eventualmente, se non l'avete ancora fatto, sottoscrivete il canale gratuito, e cliccate sulla campanellina, per sapere quando uscirà la prossima analisi, anche perché, vedete che a volte sono, un po' lungo a farle, ci va del tempo, perché bisogna, continuare a rivedere i grafici in continuazione, e paragonarli ad altri grafici, come vedete l'SMP500, e quindi c'è un lavoro, notevole di ragionamento, anche soltanto, dietro, per cercare di dare più contenuti di valore, a queste analisi possibili. Ma mi fermo qui, sapete che se volete approfondire, c'è sempre la mia mail, e ci sono i gruppi e la community Facebook, in cui rispondo alle domande, ed eventualmente, favorisco la circolazione di materiali, utile o di riflessioni utili, in giornata. Auguro a tutti, una splendida giornata. Arrivederci.